Smaltire la delusione del pareggio di sabato pomeriggio contro il Rende. Con questo obiettivo il Teramo torna allo stadio Bonolis, dove due settimane fa aveva battuto la Cavese per 2-0. Lo farà con un avversario tosto, la Viterbese di Lopez, avversario in forma che ha appena battuto il Catanzaro. Qualche dubbio di formazione per Bruno Tedino che questa mattina in conferenza stampa ha ammesso che la sua squadra è stata superficiale in Calabria. Atteggiamento questo, assolutamente da cancellare. L'unica cosa che abbiamo sbagliato a Rende è che siamo stati superficiali nei momenti importanti della partita. E questa è una cosa che non si trova con facilità dal tabacchino. Bisogna trovarla, bisogna portare noi stessi a trovare le soluzioni, però portare anche le soluzioni dalla parte giusta. Non sempre stare via, ma che sfortuna, ma il campo, ma l'arbitro, queste cose qui non le voglio neanche sentire. Noi abbiamo un compito di portare questa città, quanto prima, ma non sarà veloce, a certi livelli. Se uno a me dice che sono un gruppo senza carattere, io sinceramente è la cosa che detesto di più. Si diceva dei dubbi di formazione, quattro per la verità, per il tecnico bianco-rosso. Li elenca proprio in conferenza stampa. Allora, il dubbio è Tentardini di Matteo. Chi giocherà? Punto di domanda. Santoro Lasic, chi giocherà? Punto di domanda. Cianci Martignago, chi giocherà? Punto di domanda. Cancellotti Florio, chi giocherà? Punto di domanda. Lutermo c'ha la squadra forte? No, Lutermo non c'ha la squadra forte in questo momento. C'è una squadra che si sta costruendo per diventare forte. E saremo protagonisti, perché su questo ci mette la mano sul fuoco. Ma in questo momento qualche difficoltà la stiamo provando. Fermo restando, fermo restando, che se ci facciamo gol da soli, questo non va bene. Squadra in forma, la Viterbese, il 3-5-2 di Lopez, soprattutto in trasferta, può fare dei brutti scherzi al Teramo, che però deve assolutamente ricucire il gap con le prime in classifica. Ed è un obiettivo che per Tedino nelle prossime settimane sarà assolutamente raggiungibile. In un colpo solo eravamo riusciti a recuperare un gap. Quindi se in sei giorni riuscivamo a colmare un gap di un certo livello, io penso che nelle 30-35 partite che possono mancare riusciremo sicuramente a migliorare, ad essere più competitivi. Ed è quello che io aspetto non con ansia, ma con curiosità, quanto prima, ma sono convinto che non sarà subito. Grazie a tutti.